Musica Le squadre mobili di Reggio Calabria, Milano, Firenze e Livorno, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, hanno eseguito oltre 100 misure cautelarie e precautelarie emesse dalla Procura di Strettore Antimafia di Reggio Calabria, Milano e Firenze, a conclusione di articolate indagini che hanno riguardato esponenti dell'Andrangheta operanti in stretto raccordo in diverse parti del territorio nazionale. Le attività investigative, nell'ambito delle quali è stata sequestrata quasi una tonnellata di cocaina importate dal Sud America, hanno riguardato soggetti di origine calabrese provenienti dalla piana di Gioia Tauro, presunti appartenenti alla Cosca Molè, attivi anche in Lombardia e in Toscana e con ramificazioni internazionali. I reati contestati sono associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, detenzione ai porti legali di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione. Il filone milanese delle indagini è stato condotto congiuntamente dalla Polizia di Stato del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como. Un'indagine importante che, grazie al coordinamento fra la Direzione Settuale Antimafia di Reggio Calabria, di Milano e di Firenze, ha consentito di ricostruire allo stato degli atti e in questa fase investigativa l'operatività della Cosca Molè. Operatività in vari campi, dalle estorsioni e quindi dal controllo classico del territorio di attività economiche, come il mercato del pescato a Gioia Tauro, ha ad un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. È importantissimo perché ha visto il coinvolgimento anche di soggetti sudamericani che arrivavano a Gioia Tauro in qualità di chimici e in qualità di palombari per il recupero in mare di partite stupefacenti. Questa è un'attività che peraltro si fonda su riscontri oggettivi che sono dati da sequestri per oltre una tonnellata di sostanze stupefacenti nel corso di questi ultimi anni. Il rilievo e l'interesse di questa indagine è dato dal coordinamento che è stato svolto dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo tra le procure di Milano, di Reggio e di Firenze, nonché con l'autorità giudiziaria elvetica, che ha consentito di monitorare anche proiezioni di questa cosca sia nel territorio elvetico che in altri territori, come ad esempio l'est europeo, dove venivano fatti aggiungere alcuni importanti flussi di denaro provento dall'attività illecita della cosca. Guardi, è un'indagine che come ho detto più volte è molto complessa perché l'impegno è stato spalmato su tutto il territorio nazionale, quindi un impegno notevole con difficoltà diverse perché i territori sono diversi, ma il denominatore comune è l'offensività di questa organizzazione. Questa organizzazione agisce nella stessa maniera anche in territori dove l'organizzazione non è nata. Siccome il concetto che è passato spesso è che nell'azione criminale in territori diversi dalla Calabria l'organizzazione ha paura a manifestare la propria potenza militare perché teme ovviamente di emergere, di essere oggetto di attenzione, possiamo dire che questo non si è verificato in queste indagini perché quello che abbiamo visto fare nella provincia di Varese, nella provincia di Como da questi soggetti è assolutamente uguale a quello che abbiamo visto fare in provincia di Reggio Calabria e nella piana di Reggio Calabria. Quindi il dato che secondo me è più significativo è che questa cosca è riuscita comunque a monopolizzare un'attività criminale anche da un punto di vista operativo assolutamente omogenea su tutto il territorio nazionale. Commissariamento della SACAL e dimissione del presidente della CDA della società aeroportuale Giulio Demetrio. Sono queste le richieste che la Cigella ha avanzato in una conferenza stampa convocata alla mezza terme per fare il punto della situazione sulla SACAL, la società di gestione degli aeroporti calabresi, in questi giorni al centro delle polemiche per la presunta scalata dei privati al capitale sociale della SPA, la cui maggioranza adesso non è più sotto il controllo degli azionisti pubblici. Oggi ahimè registriamo che quelle cose, considerazioni, quelle denunce che abbiamo fatto vengono al pettine. Oggi c'è molta preoccupazione per il futuro di una società che gestisce il sistema aeroportuale calabrese, non è solo lo scalo della Messia ma come sapete riguarda pure Crotone e Reggio Calabria. In più c'è la questione della partecipazione del privato. Quindi oggi non c'è un piano industriale consegnato all'organizzazione sindacale come abbiamo chiesto da tempo, a oggi è venuto fuori quello che comunque era una preoccupazione, quindi oggi non ci possiamo permettere il lusso che è una società, quindi dato che c'è il destino come dicevo dei lavoratori e dei cittadini calabresi quindi vorremmo fare chiarezza. Su questa vicenda l'Enac ha avviato una serie di verifiche aprendo la procedura che potrebbe portare al commissariamento della SACAL e alla revoca della concessione alla società. La chiarezza la si fa in due modi, intanto con la revoca della concessione e con la nomina di un commissario perché senza nomina di un commissario gli aeroporti calabresi chiudono. Allora nominare il commissario è essenziale per salvaguardare l'occupazione, per dare garanzia ai voli di questa regione, ai tre aeroporti e per costruire un percorso nuovo fino alla costituzione di una nuova società di gestione degli aeroporti calabresi che deve essere la maggioranza pubblica. Ma noi pensiamo che anche le parole che sono state dette dal Presidente della Giunta regionale Occhiuto siano parole importanti, però quelle parole importanti devono concretizzarsi in fatti concreti. Bene, se ci sono zone d'ombre, se ci sono fatti non chiariti, se ci sono questioni che non piacciono e che non sono piaciute Occhiuto la prima cosa che deve fare è che nel Consiglio dell'amministrazione di domani mattina dica a De Medio di non presentarsi, cioè di missionarsi perché non è possibile che il rappresentante della regione, che è anche Presidente del Consiglio dell'amministrazione, possa rappresentare la regione che non lo sostiene più. Questo è uno dei punti politici di fondo di questa discussione. Aspettiamo questa decisione da parte del Presidente Occhiuto. La Calabria, in materia di criminalità ambientale, si colloca al quinto posto della classifica nazionale con 2826 reati. È quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2021 presentato a Rome che assegna alla regione il primato nazionale per le interdittive antimafia con ben 194 provvedimenti, seguita da Campania 100, Sicilia 97, Puglia 93. Il rapporto analizza i dati frutto dell'attività svolta da Forze dell'Ordine, Capitaneria di Porto, Magistratura, insieme al lavoro del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nato dalla sinergia tra Ispre e Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nelle cicli illegali del cemento, la Calabria si colloca al quarto posto nazionale con 1.082 reati con Cosenza al secondo posto della top 10 nazionale con 271 reati, Reggio al quinto, Crotona al tredicesimo e Vibbo al quattordicesimo posto. In tema di cicli illegali dei rifiuti invece la regione occupa l'ottavo posto con 456 reati. Dal 2002 ad oggi tra le principali operazioni di polizia giudiziaria in materia ambientale 39 hanno riguardato la Calabria di cui 25 dirette dalle procure calabresi e 14 dalle altre procure in cui è coinvolta la regione. Si è svolto un incontro sulla questione relativa alle spettanze arretrate dei lavoratori del consorzio di bonifica Ionio Cosentino ed altre problematiche del settore. Un incontro richiesto e fortemente voluto dalla triplice sindacale da Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia. Si è trattato, dice la straface, di un primo positivo incontro istituzionale utile per dare risposta ai lavoratori del consorzio di bonifica i quali ormai da mesi si battono per rivendicare in modo più che legittimo i loro diritti e per avviare una serie e strutturale riforma dello stesso consorzio. Il comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale dello stretto ha approvato all'unanimità dei presenti il bilancio di previsione per l'anno 2022 dopo che anche l'organismo di partenariato aveva concesso nella seduta del 9 novembre il consenso previsto dalla legge. L'importante strumento finanziario, spiega un comunicato, consentirà all'ente di continuare a realizzare le strategie delineate nel POT 2020-2022 e la programmazione di interventi infrastrutturali per i porti dello stretto contenuta nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024, anch'esso approvata all'unanimità. Sono previsti complessivamente 45 interventi sui porti del sistema per una spesa complessiva di quasi 300 milioni di euro, dei quali 254 milioni a carico del bilancio dell'ente e del resto a carico dei privati. Tre nuovi decessi e 152 contagi in risalita rispetto a lunedì, quando erano 120, nelle ultime 24 ore in Calabria. Resta praticamente stabile il tasso di positività a 3,51%, era la 3,56 con 4.327 tamponi eseguiti. Le vittime, due a Reggio e una a Catanzaro, portano il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia a 1.470. Nessun aumento tra i ricoverati nei reparti di cura, che sono 117 e uno in meno nelle terapie intensive. Cinque avvisi di conclusione delle indagini sono stati notificati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nei confronti di altrettanti dipendenti del Comune accusati di assenteismo. I cinque dipendenti comunali sono indagati per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio. Le investigazioni, eseguite dal gruppo di Reggio Calabria attraverso un'attività di videoripresa dell'ingresso degli uffici comunali e l'analisi dei registri delle presenze della nona circoscrizione di Gallico-San Batello, avrebbero permesso di raccogliere elementi nei confronti dei dipendenti comunali che nel periodo in cui sono stati sottoposti al monitoraggio si allontanavano frequentemente dal luogo di lavoro senza registrare l'uscita e senza usare per il rientro il cosiddetto badge marcatempo, risultando dunque regolarmente presenti. Soccorso Mazzini, la via principale del centro storico di Gattanzar non potrà svolgersi alcun tipo di manifestazione fino alla conclusione dello stato di emergenza per il Covid e quanto è stato stabilito dal Comitato Provinciale per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica, riunitosi sotto la presidenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta. Il provvedimento, è detto in un comunicato, è stato adottato sulla base della direttiva diramata dal Ministro dell'Interno che affida ai prefetti il compito di individuare con apposite direttive di intesa con i sindaci aree urbane sensibili di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità che possono essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza. È ciò in funzione dell'eventualità che anche nel territorio provinciale possano verificarsi manifestazioni di proteste e di contestazione contro le misure sanitarie di contenimento adottate dal Governo, in analogia con quanto si sta verificando sull'intero territorio nazionale. Dopo un forfico confronto tra tutte le componenti del Comitato e da seguito di un attento bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti, quale quello di manifestare da un lato e quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini, è stato stabilito di interdire allo svolgimento delle manifestazioni per la durata dello stato di emergenza tutto Corso Mazzini, compresa Piazza Rossi, che è quella antistante la Prefettura. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, colonnello Antonio Montanaro, ha presentato il calendario storico dell'arma per il 2021. Per questa nuova edizione il calendario celebra i 200 anni del primo regolamento generale dell'arma dei Carabinieri ed è caratterizzato da tavole artistiche realizzate dall'artista della trans-avanguardia Sandro Chia, alle quali sono abbinati i mini romanzi elaborati allo scrittore Carlo Lucarelli su episodi negli anni che hanno visto protagonisti militari. Mese dopo mese vengono esposte narrazioni ispirate dall'evoluzione dello storico regolamento che risale alla 1822 e da allora è rimasto immutato nei valori, ma sempre aggiornato e adeguato a seconda delle rinnovate esigenze. Nel calendario il regolamento dei Carabinieri viene descritto come chiave di volta non solo per l'organizzazione dell'arma, ma anche per la sua perfetta integrazione nella società con la sottolineatura dei valori che impregnano l'azione quotidiana dei militari, quali il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, la vicinanza alle persone più indifese. Il colonnello Montanaro ha i nostri microfoni. Diciamo subito che con il calendario si vogliono ricordare i 200 anni del regolamento generale dell'arma dei Carabinieri e infatti si sviluppa nei mesi, si succedono tutta una serie di scritti che cercano di evidenziare quelli che sono poi i principi valoriali che ispirano i Carabinieri, contenuti per l'appunto nel regolamento, così come si è venuto in questi 200 anni. Per ogni racconto c'è poi la tavola pittorica che intende sempre rappresentare ed evidenziare su tutti la presenza del Carabiniere tra la gente. Una presenza rassicurante, una presenza costante e continua che in questi anni, in tutti quanti questi anni, continua a manifestare ed esprimere quei principi valoriari che, come detto, erano già contenuti nella prima edizione del regolamento generale risalente per l'appunto al 1822. Nella Chiesa della Stella, nella parrocchia della Cattedrale e nel Centro Storico di Catanzaro sono svolte delle iniziative in ricordo di Giuseppe Moscati, da sabato 13 a martedì 16 novembre. Ai nostri microfoni Don Sergio Jacopetta. Sì, ogni anno il 16 novembre noi celebriamo la festa di San Giuseppe Moscati e la facciamo precedere da un trido di preparazione, quindi abbiamo iniziato ieri e poi culminerà nella festa del 16 novembre, che sarà martedì. San Giuseppe Moscati, qual è stato il suo grande insegnamento? Quello di operare e si è prodigato a servire soprattutto ai più poveri. Spesso non solo dava le ricette, ma anche comprava lui stesso i medicinali per le persone che non avevano la possibilità di farlo. E quindi da lui impariamo che è proprio la carità ciò che va continuamente ricercato e vissuto. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali torna in campo il campionato di calcio di Serie B. Sì, sabato si riprende e Dillecrotone sarà impegnato nella difficile trasferta Umbra di Perugia. Abbiamo lavorato molto bene approfittando della settimana di sosta per le nazionali. Stiamo lavorando soprattutto a livello tattico, ha detto Marco Festa, portiere rosso-blu. Le percezioni sono molto buone, continua. Abbiamo iniziato una nuova settimana e prepariamo la gara nel migliore dei modi per andare a cercare di fare il risultato a Perugia. Sì, stiamo lavorando molto bene durante questa settimana della sosta e stiamo lavorando soprattutto a livello tattico sia in fase difensiva che in fase offensiva e le percezioni sono molto buone. Adesso ripartiamo con questa settimana e prepareremo al meglio la partita per andare a cercare di fare risultato. Ogni partita in via è difficile, puoi giocare con la prima o con l'ultima, c'è sempre da dare il massimo e escono sempre partite equilibrate. Quindi noi adesso dobbiamo pensare partita dopo partita, partendo appunto a quella di Perugia e poi quando finirà quella penseremo alle altre. Sei da sette anni al Crotone, sei uno dei leader. Hai vissuto momenti bellissimi con le promozioni e amari con le retrocessioni. Cosa servirà per uscire da questa situazione? Sì, questo fa parte del calcio. Io ho avuto la fortuna di vivere dei bei momenti e secondo me essere messi in mano in questo momento può essere di grande stimolo per tornare a rialzarsi e tornare a ottenere dei risultati importanti. Si riparte con la trasferta a Perugia, che gara vi aspettate? Sicuramente Perugia è una buonissima squadra, molto quadrata, ha subito pochissimi gol e noi cercheremo di andare lì a imporre il nostro gioco, di cercare di fare la nostra partita e portare a casa il massimo dei risultati. E cosa servirà per sfatare il tabù Renato Curi, stadio nel quale in Serie B il Crotone non ha mai vinto? Servirà la giusta attenzione, la giusta cattiveria, servirà a seguire al massimo le indicazioni che ci darà il mister e portare in campo la grinta giusta e la voglia di portare a casa il risultato per uscire da questo momento difficile. E' una sconfitta che brucia ma soprattutto che pesa quella del Catanzaro lunedì attore del Greco in primis perché subita contro una squadra, la Turris, attualmente rivale nelle posizioni alte sebbene inferiore dal punto di vista dell'organico. Peraltro con questa vittoria i Corallini hanno proprio scavalcato in classifica il Catanzaro. Inoltre, cosa ancora più importante, in quanto questa sconfitta è stata rimediata meritatamente da parte dell'11 di Calabro. Nell'arco dei 90, infatti, la squadra Corallini è apparsa senza dubbio più in palle motivata, arcigna e vivace. Il Catanzaro ha subito la partenza in quarta dei campani rischiando più volte di andare sotto, poi ha provato una reazione ma solo nella ripresa è venuto realmente fuori, costruendo due tre palle gol significative, una su tutte quella di Davis Curiale che ha sprecato una grossa occasione. Poi, nel momento migliore dell'11 di Calabro, la gran giocata dell'ex Luca Giannone, che con una parabola eccezionale con il Mancino non ha lasciato scampo a Branduani. Si tratta della terza sconfitta ad inizio stagione per il Catanzaro. K.O. tutti rimediati con squadre rivali in classifica. Questa è l'analisi del momento da parte del tecnico Calabro. Siamo arrabbiati per la sconfitta tutti quanti, io per primo i giocatori e pensiamo alla prossima perché dobbiamo cercare di ricominciare e rimetterci in carreggiata così come abbiamo fatto tante volte perché tutto questo pessimismo in questo momento potrebbe trovare ottimismo con una buona prestazione e un buon risultato. Nel campionato interregionale gruppo I ha ancora un segnale importante dalla Mezzia che vince la quarta gara consecutiva e tiene il passo della Gelbison capolista che comunque rimane a più quattro. La squadra di Toni Lio espugna il Falcone Borsellino di Paternò con una doppietta di Umbaca, autentico trascinatore nella trasferta sicula. L'ex Sambiase va a bersaglio al sessantesimo e al novantacinquesimo. Di Laga e Licata al Morreale Proto di Cittanova finisce 4-1 per i siciliani, travolto anche il San Luca sul terreno della Cireale, 4-2 per i Granata. Nel derby calabrese il Rende supera il Castrovillari 1-0, rete decisiva per i Biancorossi al 55esimo di Riconosciuto. Respira la squadra Biancorossa mentre i rossoneri non riescono a svoltare in questo tormentato avvio di stagione e restano impelagati nelle zone pericolose. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS